Buongiorno, sono Paolo Bertagni, presidente di Guida Via Geno Frills e socio di Web & Social Tourism Napoli. Forti dalla nostra esperienza sia giornalistica sia di organizzatori e eventi, ormai da due anni insieme con Cuma Travel e Salvatore Menale abbiamo incominciato a organizzare questo evento lo scorso anno e replicarlo quest'anno e grazie al successo che sta avendo perché abbiamo praticamente raddoppiato le presenze il nostro intento è quello di sviluppare nei prossimi mesi un evento itinerante che andrà a toccare altre città nel sud Italia e si sta già pensando alla costa adriatica e alla Sicilia. Quest'anno la soddisfazione è ancora più alta rispetto all'anno scorso perché come dicevo le presenze sono aumentate a livello esponenziale e i contenuti hanno dimostrato che la linea è quella giusta ovvero fornire formazione alle agenzie di viaggio e agli hotel e anche alle web agency ma non soltanto formazione di base anche formazione un pochino più strutturata nel senso che l'anno scorso abbiamo presentato determinati argomenti a livello base quest'anno stiamo incominciando dando per scontato che le persone siano più formate abbiamo incominciato a fornire formazione a un livello un po' più alto e questo sarà il trend dei prossimi anni ovvero forniremo sempre una base di formazione anzi una formazione di base ma crescerà sempre di più nel corso degli anni perché quello che vogliamo fare è migliorare sempre di più la conoscenza del settore di quello che è necessario ormai per poter sopravvivere.